Ciao, ciao. Io sono Ale. Benvenuti, benvenuti in questo mio nuovo video. Eccovi, finalmente. Mi spiace essere stato un po' assente nei giorni scorsi, ma io in realtà forse ho voluto un attimo riposare, ho voluto fare un po' di cose nel weekend, anche per il mio compleanno. Quindi ho, appunto, lasciato da parlo, tra virgolette, i video, nel senso che poi anche settimana faccio fatica a registrare, ma questa sera sto registrando per me, per me, per me. E tra l'altro spero che la luce sia carina, perché siccome ultimamente alcune persone mi stanno assinanando il fatto che comunque preferirebbero video con una luce, diciamo, più soffusa rispetto ai miei video, che porto solitamente a, appunto, ho cercato di andare a reddere il tutto un attimino più tranquillo, un attimino più buio. L'unica cosa è che mi viene un po' di visione, nel senso che non abbiamo avuto camera, con le luci un po' basse, così a led, tende a fare degli effetti un po' brutti. Di conseguenza, appunto, ci ho messo, ad esempio, questa sera una decina di minuti o qualcosa in più per andare a regolare le luci in maniera corretta. Però, magari farò un po' di prova e poi, insomma, cercherò di posizionarle in maniera che creino o possano creare un effetto credevole. Quindi, eccoci qui, e questa sera, tra l'altro, ho messo qua dietro la mia piattina, l'ultima arrivata alla postera, che ha fatto una nuova foglia che si è aperta, in realtà, abbastanza velocemente, ma della quale ho visto proprio tutta la nascita, diciamo. Ed è questa, oddio, ed è questa, quella con tanti, cioè tanto bucata, diciamo, no? Questa qui, che tra l'altro, no? Volevo mostrarvi nella, già un po' meglio a livello di colore, ma ha fatto adesso la luce azzurra, non si nota, però è molto, molto, molto più chiaro rispetto alle altre, ed è davvero bella. E, non so, secondo me, è molto chiaro, quindi l'ho voluta inserire questa sera. Allora, questa sera video molto tranquillo, con un po' di whispery, che ne ho approfittato per andare a fare un intro un pochettino più lunga, ma che spero possa essere stata rilassante, visti sussuare, 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 sussuare. E, questa sera andrò a fare, in realtà, semplicemente il trigger, e poi un po' di whispery, che ho vestaggio, anche per andare a conciliare maggiormente il vostro sonno, e il trigger di questa sera è perfettamente indetta, con questa lucida. E sto parlando, infatti, delle appolline, 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 che mi ha regalato Sara, e che ho mostrato per la prima volta in live, faccio il discorso. E io veramente, veramente le amo, amo il loro suono. Poi, magari vi raccontarò ancora di tutto, su queste, cioè non proprio su queste, ma su questo trigger, sulle appolline, sotto. Comunque, ma anche un bel suono, secondo me, l'impugnatura proprio della appolline. Però, appunto, direi che anche dalla live, hai perso il fatto che suona così delle pollicine veramente rilassate e apprezzate da molti. Se esotta, cos'è, 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 cos'è? cos'è, 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 cos'è cos'è, cos'è 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 cos molto 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 ti senti davvero al sicuro questo suono? e ti viene proprio voglia di dormire di rilassarti il più possibile questo suono davvero davvero super rilassante ti senti davvero a dormire un po' 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 si senti lonti e poi ci sono tutti questi brillantini che si muovono all'interno della bollina e che con ogni bollicina si spostano e noi感覺i diverse sono subito come si prendete la sitenza è perfetta e E ora, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, estraiati o mettiti in una posizione comoda, 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 comoda e rilassati, rilassati e chiudi gli occhi, devi solamente concentrarti su questo suono e sulla mia voce le bollicine si allontanano piano piano dalle tue orecchie e tu sei in uno stato di relax sempre più profondo, sempre maggiore e quindi se ancora non hai chiuso gli occhi ti aiuto a chiuderli io ti aiuto a chiuderli io chiudi gli occhi 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 chiudi chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi Io ti auguro una buona, buona, buona notte, buona notte, buona notte buona notte, buona notte, buona notte, buona notte, buona notte, buona notte, buona notte buonanotte 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 Pornata